Cari amici di Meteo Giuliacci, ben ritrovati. Nel corso della nuova settimana le temperature aumenteranno sempre più. Questo però non si tradurrà con della stabilità sicura messa in cassaforte, no! E d'altra parte un po' di pioggia ancora serve, anzi in alcune zone d'Italia lo sappiamo serve tanta, servirebbe tanta 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 pioggia. Non possiamo far altro che mettervi al corrente di quello che Madre Natura e i modelli matematici ipotizzano per la prossima settimana e questa è la previsione per la giornata di lunedì. Nuvolosità presente sul nord Italia ma fenomeni scarsi se non qualche piovasco verso il frio di Venezia Giulia e settori più orientali del Veneto. Nuvolinamento anche tra la Liguria, la Toscana, qualche scroscio di pioggia al mattino prima parte della giornata tra l'Umbria e Lazio ma poi poco irregolarmente nuvoloso. Tenderà a peggiorare invece con delle piogge sulle due isole maggiori e questa nuvolosità tenderà a viaggiare verso dapprima il Tirreno e poi anche a sfondare verso l'Adriatico. Insomma molta variabilità in questo avvio di settimana. Io cari amici mi fermo qui, amici di Metro Giuliacci, ci riaggiorniamo presto, buon proseguimento di settimana, arrivederci!